Dopo un confronto durato due ore, gli autotrasportatori hanno convenuto sulla richiesta del governo musumeci di sospendere ogni forma di protesta. Lo ha dichiarato Marco Falcone, assessore regionale alle infrastrutture, al termine della riunione straordinaria della consulta regionale dell'autotrasporto, convocata nella giornata di ieri a seguito della protesta degli autotrasportatori nei porti di Palermo, Catania e Termini Merese. Presenti all'incontro le principali sigle del settore autotrasporto e i rappresentanti dell'autorità di sistema portuale della Sicilia. La consulta regionale ha deliberato all'unanimità di richiedere al governo nazionale, nella riunione che dovrà tenersi la prossima settimana, come comunicato dal viceministro Giancarlo Cancelleri, un ristoro per i disagi che gli autotrasportatori devono patire a causa della chiusura dell'autostrada Palermo-Catania. In merito al rincaro dei trasporti marittimi, la consulta chiede a Roma di adottare soluzioni idonee per ridurre gli aumenti a carico degli autotrasportatori. Alla riunione della settimana prossima, il Ministero delle Infrastrutture ha detto Falcone, il governo Musumeci sarà presente con una delegazione della consulta regionale per l'autotrasporto.